Le estruggente immagini che vedete scorrere in sovraimpressione, che sono state girate da Francesco Mattere e Aniello Castagliuolo, si riferiscono ai primi istanti del pauroso ingendio che ieri sera si è sviluppato a Santa Maria al Monte, sul versante foriano del Monte Pomeo. Il veloce propagarsi delle fiamme è stato favorito dal forte vento che soffiava sull'isola d'Ischia. Providenziare si è rivelato l'intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile e dell'associazione Forio CB, che solo intorno alle ore 4.30, non senza difficoltà, sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme che minacciavano anche le abitazioni della zona. Visto l'ora tarda, è molto probabile che l'ingendio sia stato di origine delusa e questo accresce ancora di più la rabbia di chi ama il patrimonio arboreo dell'isola verde.